I vandali tornano a colpire la zona del Trigio a ridosso del Teatro Romano Benevento dopo le scritte questa volta nel mirino degli incivili Leggiostrine installate nel parco pubblico comunale di Casa Pisano, danneggiate come alcuni arredi. Duro l'assessore all'ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa. Purtroppo siamo vittima di alcuni imbecilli che la sera evidentemente non hanno nulla da fare che distruggere quelli che sono i parchi giochi o magari imbrattare le mura. Purtroppo un nuovo atto vandalico hanno distrutto l'altalena che è in questo parco giochi all'Ottrigio vicino al Teatro Romano dove avevamo anche messo altre giostrine, l'avevamo anche arricchito di altre giostrine. E dunque l'amministrazione mettere in atto contromisure volte a contenere i danni. Siamo al sindaco abbiamo chiesto al comandante della polizia locale di incrementare i controlli e di posizionare anche una telecamera al fine di avere una videosorveglianza. Purtroppo è un problema che c'è, lo stiamo un attimino studiando, cercheremo di risolverlo sicuramente. Quello che posso fare come invito alla popolazione è che chiunque abbia visto qualcosa andasse a denunciare perché non possiamo poi più consentire che per colpa di qualche idiota ci dobbiamo rimettere tutti perché poi colpire i giochi dei bambini secondo me è una cosa quanto più meschina è possibile e adesso c'è necessità di ribellarsi tutti, non possiamo più consentire tutto questo.